Quali sono i diversi tipi di disturbi autistici? I diversi tipi di disturbi autistici formano una gamma di disturbi dello sviluppo, che insieme costituiscono lo spettro dell'autismo. Tutti i tipi di disturbi autistici sono disordini dello sviluppo caratterizzati da una avversione all'interazione sociale e, a volte, da comportamenti rigidi o ripetitivi, tra le altre cose. Lo spettro autistico è una scala che ospita casi di gravità e sintomi diversi. Ad esempio, alcuni disturbi distinguono tra diversi livelli di apprendimento della lingua o l'età di esordio. Mentre a volte si parla di termini come autismo ad alto funzionamento, tale terminologia è relativa e non ha una definizione fissa. Poiché l'autismo è un disturbo dello sviluppo, tutti i tipi di autismo sono caratterizzati dall'incapacità di sviluppare pienamente determinate abilità. I disordini dell'autismo hanno in comune una mancanza di sviluppo e comunicazione sociale tipici e interessi o comportamenti fissi che possono apparire ossessivi. I sintomi sociali possono includere e non rispondere al proprio nome quando chiamato, mancanza di contatto visivo prolungato e incapacità di interpretare ciò che gli altri pensano o sentono. È importante notare che questi sintomi possono variare notevolmente in gravità, così come in combinazione. Ad esempio, una persona autistica può avere uno sviluppo del linguaggio abbastanza tipico, ma tuttavia ha grandi difficoltà a continuare le conversazioni. Negli Stati Uniti, il manuale diagnostico e statistico, pubblicato dall'American Psychiatric Association, contiene tutti i disturbi mentali che l'associazione riconosce. È meglio conosciuto come il manuale diagnostico e statistico con un numero che dessigna la sua edizione corrente, perché è soggetto a revisione periodica. Negli Stati Uniti, è considerato il riferimento definitivo per i disturbi della salute mentale. Riconosce una manciata di disturbi autistici, compreso il disturbo autistico, il disturbo di Rett, il disturbo di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo pervasivo dallo sviluppo atipico. Il disturbo autistico è spesso indicato semplicemente come autismo. Oltre a mancare di solito lo sviluppo sociale e la comunicazione, le persone autistiche hanno spesso interessi molto specifici. I bambini autistici potrebbero preferire allineare giocattoli invece del gioco immaginativo tipico dei bambini in via di sviluppo, o preferiscono essere soli invece di giocare con gli altri. Mentre questi termini sono relativi, una persona autistica ad alto funzionamento potrebbe avere competenze linguistiche superiori alla media, mentre una persona con autismo a basso funzionamento potrebbe esibire un ritardo mentale. Altri disordini di autismo includono il disturbo di Asperger, che è caratterizzato da abilità linguistiche capaci e talvolta intelligenza superiore alla media. Le persone con Asperger mostrano altri comportamenti autistici come lo svantaggio dello sviluppo sociale, sebbene di solito in misura leggermente inferiore. Il disturbo diretto è un disturbo genetico specifico che di solito si verifica nelle ragazze ed è caratterizzato da uno sviluppo normale che rallenta o regredisce a uno o due anni di età. Il disturbo disintegrativo dell'infanzia, CDD, è una malattia rara che comprende anche lo sviluppo regressivo, di solito in uno sviluppo sociale che si verifica a 3-5 anni di età. Disturbo dello sviluppo pervasivo non altrimenti specificato, disturbo pervasivo dello sviluppo NSO, è anche chiamato autismo atipico. Ciò potrebbe includere, ad esempio, sintomi autistici di gravità inferiore o solo un sintomo autistico specifico ma non altri.